Radio Bruno Siamo qui quest'oggi alla Croce Bianca di Chiari per ricordare un appuntamento importante 17 ottobre, Lisetta cosa succede in quella data? Il 17 di ottobre presso l'Istituto Salesiano San Bernardino di Chiari partirà il nostro nuovo corso consiste nel corso di formazione per formare nuovi volontari il corso è diviso in due step, un 42 ore più 4 per diventare volontario per il trasporto sanitario e più per formarsi per l'emergenza urgenza ci sarà uno step di 78 ore Un corso per cercare volontari, come siete messi come volontari oggi e nel periodo Covid ne avete trovati o persi? Allora, come volontari oggi siamo messi diciamo abbastanza bene ma non bastano mai la sezione è nata nel 2008 e per il momento conta circa 110-115 volontari però non sono mai abbastanza abbiamo affrontato il periodo Covid che sicuramente c'è stato un periodo abbastanza gravoso per noi ci siamo sempre stati, non abbiamo perso volontari per fortuna siamo riusciti comunque a continuare a fare i corsi e ne abbiamo comunque formati altri però fare volontariato non basta mai quindi ecco perché ogni anno organizziamo corsi di formazione per far sì che le persone siano formate perché comunque facciamo un volontariato particolare cioè assistiamo, diamo assistenza alle persone aiutiamo le persone e quindi i volontari non bastano mai il territorio è vasto le richieste di aiuto sono molteplici effettivamente si vorrebbe sempre riuscire a soddisfare ogni richiesta il che qualche volta è un po' impossibile ecco perché si cerca di formare ogni anno volontari ovviamente certificati Hai parlato di territorio vasto, che zona servite? Allora noi serviamo una zona vasta nel senso che le richieste dal territorio arrivano da ogni parte prettamente, certo il nostro territorio del Comune di Chiari ma tutto il bacino della SST Franciacorta e poi va bene, noi facciamo emergenza urgenza a gettone quindi andiamo dove ci manda la centrale operativa andiamo anche sul territorio di Bergamo andiamo anche a Milano dipende dalle esigenze delle persone che hanno bisogno insomma un trasporto sanitario può essere anche fatto, non so, per Milano piuttosto che per Pavia non da poco conto, spessissimo andiamo a Bologna in base alle richieste che gli utenti ci fanno Prima hai detto i volontari non bastano mai un'altra cosa che non basta mai è lo spazio sia per voi che per i mezzi Infatti, non è da poco conto questa lo spazio non basta mai infatti la nostra sezione ha spazi un po' piccoli ridotti per il numero di volontari che siamo e siccome siamo in crescita e speriamo di crescere avremo bisogno di una sede un po' più grande pare che nel prossimo futuro ci possa essere attendiamo comunque ancora notizie però dovrebbe essere così dopodiché per fare i servizi ci vogliono anche i mezzi i mezzi che comunque dovrebbero essere sempre al coperto riparati dalle intemperie e i mezzi costano ci vogliono le ambulanze ci vogliono i vari mezzi per disabili e quindi non sono mai abbastanza nemmeno quelli perché poi certe volte si rischia di avere la squadra ma di non avere abbastanza mezzi o viceversa di avere i mezzi e magari in quel giorno non si hanno abbastanza squadre per far fronte alle necessità che il territorio di cui ha bisogno Tornando al 17 ottobre invitiamo i clarenzi non solo a partecipare al corso? Allora tornando al nostro corso che inizierà il 17 ottobre alle ore 20 a San Bernardino a Chiari invitiamo tutte quelle persone che hanno voglia di aiutare gli altri se il motto potrebbe essere quello vieni anche tu più siamo più riusciamo ad aiutare speriamo di cioè vi attendiamo in tanti fare volontariato specialmente il nostro richiede comunque preparazione impegno ma vi garantisco è una grande soddisfazione aiutare chi ne ha bisogno e chi meglio di noi volontari lo può fare Radio Bruno è un'altra domanda che è una grande soddisfazione